Corbo è scomparso ci siamo, ci siamo, siamo tornati all'ultimo, il brivido all'inizio ben ritrovati, ben ritrovati a tutti un saluto a chi già ci sta scrivendo, BN Live nuova edizione stavolta non ci sono io non c'è colpo Gobbo, ci sono io Cristiano Corbo, naturalmente un saluto ai nostri ospiti ciao Francesco Guerriere di calciomercato.com ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti e ovviamente un grande saluto al direttore Romeo Agresti, ciao Rome ciao Cri, ciao Frao ciao a tutti si va verso una scelta comunque importante dentro o fuori sarà molto indicativo capire come come Tiago Motta vorrà sfruttare Douglas Lewis, se vorrà sfruttarlo a partire dalla gara di Genova, Rome tu che idea ti sei fatto in questo momento nella situazione di Douglas? Anche oggi l'allenamento è stata data la pettorina del regista ha manovrato l'azione è stato uno dei migliori chiaramente dell'esercizio sul possesso palla ma sulle doti tecniche ci sono pochi dubbi sul ritmo e sulla tenuta che magari Tiago Motta nutre qualche preoccupazione ma allora ho visto su X oggi una parte dell'esercitazione dove si vedeva proprio in maniera nitida che tutti i centrocampisti da Locatelli ho visto se non sbaglio anche Turam lo stesso McKennie giocavano di prima un tocco e vai Douglas invece la teneva la teneva passava e quello è cioè un giocatore che è estremamente tecnico molto forte dal punto di vista qualitativo ma che secondo me per l'idea di calcio di Tiago Motta deve imparare a fare delle altre cose in fase non possesso ma anche in possesso quindi io non la vedo come un caso oggi non lo vedo come un caso è chiaro che quando noi quest'estate abbiamo preso Douglas mettavamo tutti i titolari lui e poi gli altri a centrocampo perché a fronte all'investimento quello che aveva fatto la Stonvilla quindi è stranissimo che giochi così poco ma non è così strano in relazione all'idea di calcio di Tiago Motta quindi lui deve fare un percorso secondo me gli verrà data un'altra chance a breve dall'inizio non so se già a Genova poi le partite sono davvero tantissime però è sicuramente curioso constatare come non si stia parlando di un titolare ecco perché la nostra testa lo era quest'estate Frai molti lo paragonano ad Artur anche ironicamente sembra dietro effettivamente dal punto di vista atletico la gamba è quella che è però dal punto di vista tecnico come dicevamo davvero è indiscutibile un elemento come Douglas Lewis farebbe la differenza in questo momento anche in questo deserto offensivo della Juventus secondo te? Ma secondo me sì io lo vedo anche più fisico rispetto ad Artur può giocare in più ruoli perché secondo me è interscambiabile con Kopmeners nel senso in un calcio di motta dove lui non vuole dare punti di riferimento al di là del discorso Vlaovic Kopmeners e Douglas Lewis quando giocheranno insieme secondo me possono scambiarsi tra il ruolo davanti alla difesa e il ruolo di trequartista dietro alla punta io credo sia un giocatore quando la Juventus l'ha preso io ero convinto avesse fatto un grande colpo soprattutto perché che l'ha pagato 28 milioni di euro più altri due giocatori che comunque erano in uscita come Iling Junior o Barrenecea che non era proprio al centro del progetto della Juventus quindi è stato sacrificato facilmente come lo sarebbe stato anche McKennie detto questo io sono ancora convinto che la Ju abbia fatto un gran colpo con Douglas Lewis l'anno scorso uno dei centrocampisti migliori della Premier League e parliamo di quello che per molti è il campionato migliore al mondo penso soltanto abbia bisogno di un po' di tempo per rientrare nei meccanismi di Tiago Motta credo che quando la Juventus è andato a prenderlo l'ha seguito per tanto tempo sia giunto sia Tiago Motta penso che l'allenatore abbia già un'idea di come sfruttare le sue caratteristiche al massimo e sia soltanto questione di tempo ma anche perché sposo totalmente l'analisi di Fra e lui lo sa bene perché aveva raccontato ottimamente come sempre l'evoluzione di quella trattativa cioè se non ci fosse stato un Tiago Motta assillante che comunque voleva tutti i costi di Douglas probabilmente quando McKennie ha fatto le bizze la Juve non dico che si sarebbe tirata fuori agevolmente ma non sarebbe rimasta lì a cercare di studiare un'alternativa a buttare dentro Barrenecea quindi ha ragione fra e Tiago sa che tipo di giocatore sia Douglas e cosa gli possa dare ma al momento forse perché siamo ancora una sorta di work in progress i giusti equilibri la giusta identità da trovare e probabilmente lui è un po' più indietro nella testa di Tiago sicuramente sicuramente è più indietro ma si è percepito anche dalle risposte che ha dato in conferenza stampa da questo punto di vista Tiago insomma tra il detto e non detto comunque è stato abbastanza chiaro Rome verso il Genoa hai detto che potrebbe esserci effettivamente come sappiamo la possibilità che possa giocare Douglas Lewis dal primo minuto ti aspetti solo quella come novità o iniziamo anche a intravedere il famigerato turnover un termine che so che ti piace tantissimo ma allora uno cattivo ti potrebbe buttare nella discussione una panchina per Vlaovic dal momento che tu me lo bocci così anche in relazione al piano gara con il Napoli perché capisco la strategia di non dare punti di riferimento ai centrali quello che vuoi però uno come Tiago no guarda ovviamente non avremo mai la controprova ma io sono abbastanza convinto che se ci fosse stato Milik disponibile già in alcune partite già disputate Vlaovic sarebbe finito in panchina io ho questa sensazione perché comunque la panchina cioè la sostituzione al 45esimo all'intervallo con il Napoli è una scelta forte come dire aiutati che Dio ti aiuta cioè io non ti regalo niente non mi stai piacendo fuori e quindi ti dico no uno ma l'indio potrebbe pensare sabato a una panchina poi però si aprirebbe l'altro tema chi gioca lì gioca Weah gioca Nico perché puoi anche giocare con Nico però devi avere recuperato con Sesao perché se no sei corto quindi ti dico non mi stupirebbe se Tiago dovesse effettuare qualche scelta un pochettino forte resta il fatto che noi dobbiamo costruire una squadra per Genova chi tiri in porta perché noi non tiriamo mai cioè oggi ho controllato le statistiche siamo terzultimi per aspetti goals venga io puoi essere terzultima per questo dato e quindi a Genova dove cari amici della chat vi avviso sarà una partita ancora come Empoli come quella con la Roma come quella con Napoli anzi secondo me Giardino tenderà a esasperare ulteriormente la fase difensiva forte anche di una situazione abbastanza complicata l'infortunio di Marinovski credo anche Messias sia benissimo quindi la bisogna calciare se noi pensiamo di metterci lì sempre con questo possesso cercare il pertugio che poi non emerge mai ci facciamo di nuovo male quindi mi aspetto che Tiago cambi qualcosa per andare a Marassi essere non solamente belli in uscita ma efficaci ecco concreti assolutamente fra in questo senso di aspetti che la Juve possa diciamo avere anche un vestito differente dal punto di vista tattico cioè la sensazione è che ormai anche le avversarie abbiano acquisito determinate certezze sul gioco di Tiago Motta e che alla fine sia un po' più facile in questo momento affrontare la Juve o quantomeno chiudersi contro la Juve perché sai che una difesa schierata bene solida concreta contro il giropalla bianconero alla fine in qualche modo il risultato può portarlo a casa o comunque incrementa le chance di portarlo a casa cioè ci aspettiamo anche una mottata in questo senso secondo me sì perché il gioco della Juventus di Tiago Motta non può essere il gioco del Bologna di Tiago Motta sia perché gli interpreti sono diversi sia perché dopo un anno intero ormai anche gli avversari come dici te hanno capito bene o male come fermare le sue squadre se veramente dovesse andare in panchina a Vlaovic e non la trova una cosa così assurda visto il suo stato di forma la bocciatura a Napoli è chiaro che forse dal punto di vista psicologico rischi di perderlo un pochino però fino adesso ha sempre usato Motta la carota per Vlaovic forse dandogli un po' di bastone al momento in cui si riesce a tirare fuori il meglio dall'attaccante serbo e mi piace l'idea di uno dei ragazzi della chat che ha scritto Ildiz falso 9 come idea potrebbe essere una soluzione perché no Motta più volte anche al Bologna quelle poche volte in cui non aveva Zierkze era riuscito a trovare un'altra soluzione con un centrocampista un trequartista un po' più avanzato secondo me potrebbe fare anche il Kopmeners alla lunga il falso 9 magari venendo indietro aprendo gli spazi per l'inserimento dei trequartisti degli esterni delle mezzali e arrivando al tiro che è quel numero quella caratteristica come diceva Romeo che manca in questo momento da Juventus manca tantissimo effettivamente vedremo se la Juve riuscirà a ritrovare anche un po' di non solo di concretezza ma anche forse di fantasia perché Rome tra tutte le cose tra tante cose comunque sono mancate così come tante cose abbiamo visto anche il guizzo la partita un po' più sporca il tiro da fuori la giocata del singolo è come una grande orchestra che arriva lì bellissima sinfonia ma poi manca effettivamente il finale quello che ti fa scattare in piedi e ti fa fare l'applauso più lungo del mondo in questo senso secondo te proprio se dovesse esserci se tu dovessi trovare un elemento importante che non si è visto e che potrebbe fare la differenza con il Genoa cioè quali sceglieresti? Copp tutta la vita Copp perché mi sembra che si stia muovendo bene non è che di puoi dire qualcosa quando tocca la palla ha qualità differente rispetto ai compagni di reparto aiuta tanto la squadra si sacrifica nel secondo tempo con il Napoli ha fatto il laterale sinistro aggiunto no perché credo che la Thiago volesse provare a creare il 2 contro 1 con con il Diz però manca il colpo da Fioretto cioè Copp c'è andato vicino le arriva quella palla di Cambiaso e non la colpisce bene a Empoli la colpisce male per poco non entra col PSV un'altra bella situazione non la sfrutta quindi serve il colpo perché comunque Copp fa parte di quei calciatori che hanno la proiezione di tot goal all'anno e se non segna Vlaovic qualcun altro deve segnare ecco io mi infastidisco quando vedo che comunque non proviamo tanto la conclusione a distanza perché a differenza della passata stagione abbiamo i calciatori che possono tirare Nico Copp Douglas il Diz quindi bisogna provare anche quella soluzione quando vedi ci sono spazi cerca anche di forzare qualcosina poi magari Thiago si arrabbia però non possiamo nemmeno pensare di essere così fedelissimi alla coralità ogni tanto un tocco estemporaneo ci vuole un tocco di genio non possiamo limitare la creatività di giocatori che sanno calciare che sanno calciare che sanno calciare che sanno calciare